Bollette da 6.000 euro. I cittadini assegnatari delle case ATER si sono visti recapitare un conguaglio a dir poco salato. Usando un po' di ironia, verrebbe da dire conti che fanno acqua da tutte le parti, perché è di quello che si parla. Al Palazzo del Consiglio regionale a Pescara questa mattina sono intervenuti alcuni inquilini di Via Rigopiano. È un'esperienza bruttissima. Cioè, solo pensare che mi è arrivata una bolletta di 5.000 euro, una doccia fredda. Però l'ATER se lo può scordare che gli do 5.000 euro. È immanemente impossibile che gliele do. Cioè, io vorrei capire anche una cosa dall'ATER come ha fatto a fare questi conti. Non lo so se hanno fatto la pesca miracolosa. Perché a chi 5.000, a chi 3.000, a chi 4.000. Cioè, ma la coerenza dove sta? La denuncia viene dalle associazioni dei consumatori a di consume codice dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che ribadisce. Cittadini regolarmente paganti, non abusivi, insomma, devono far fronte a richieste esose per errori imputabili a H e ATER. Perché è successo tutto questo? Perché il cittadino che ha sempre pagato deve pagare due volte? Perché nel 2007 ATER e ATER si erano impegnati a dismettere il contatore centrale e attivare tutti i contrattori prediferici. Quindi i cittadini onesti sono andati e hanno contrattualizzato l'utenza direttamente con l'H e hanno iniziato a pagare le bollette con l'H. Stranamente, dopo 12 anni, arriva anche un'altra bolletta dell'ATER. Perché questo? Perché abbiamo indagato, abbiamo scoperto che purtroppo ATER e H non hanno dismesso i contatori centrali. Quindi i contatori centrali hanno continuato a girare, a contabilizzare. E poi è arrivato questo enorme debito che l'ATER sta ripartendo, circa 800 mila euro, poi transato a 500 mila, ripartendo per tutti gli utenti. Tanti cittadini regolari che hanno utilizzato l'acqua, poi contabilizzata dal contatore centrale. Dietro il danno, la beffa, chiude Pettinari, urge un censimento che dia conto di tutte le utenze. E sul debito dei consumi idrici dal 2007 al 2018, la Regione se ne faccia carico.